La questione se fesse fersa, lo che i club fassa, una realtà sportiva che adesso il metà di fare sport a passare 150 giorni in fassa e che la pelle d'ombrer ente una squadra di serie A, ha deciso di essere Baraka e Buratins, a informare la gente di questa decisione e una letra ma non è da fuori a ti dispassare a tutta la famiglia di sogno che esce. Dal 31 di marzo, se per leggere la nota firmata dai dirigenti del fassa, tutta l'attività vennerà a lasciare su e non si sa se le spauderà per via da Neff. Una letra che ha lasciato maravigliare la moglie dei genitori. In dena, il presidente Roberto Ungari, che non sentiva al telefono, non voleva dare fuori declarazioni, ma ne ha confermato che a seguito del smendamento delle risorse e doveva rinvestire la moglie di 40 anni a livello personale, non si sente più di seguitare. Della notte, venne lamentare il disinteresse da man di rappresentanti istituzionali, ossia il mondo politico. Se tratta di un vero doloroso, ne ha detto mo' Ungari, ma si è un ruolo a un livello che non ha niente più i soldi per mettere diesel tipo il mince. Una situazione drammatica, una letra che suona anche in ultimatum, o se che tira fuori le risorse o lo che passa lascerà per passare 150 giorni che pratica questo sport di valore. Per la società, Duce con se sentir chiama in causa, da Jon Bolch al conseglier provinciale all'assessore provinciale. Trentino Marketing smendrà il finanziamento a 40.000 euro, i comuni d'ess'autotente, i sponsor che il PEC che resta. A seguito di una spesa di 2 milioni di euro per mettere i turins da sorella sul quart, squerta da finanziamento di mo' per il 25%, il crack economico è su nous. Perder l'occhio fosse a far acquistare, per le sfide, ne ha detto il genitore che ne ha fatto er copia della letra, fosse a scherzare una scuola, un centro di educazione ai valori segni della vita. Non tutto è scritto, la società ha già lasciato accesa due persone, il fisioterapista e l'urierante. Ma Mertes che venne è in programma una scontreda col presidente della provincia Alberto Packer ed è ora se potrà intenderci se l'occhio sarà ora o non da venire a Val de Fassa. Quello che sono sicuro e che non sarà più possibile, scriverete la squadra ma ora al campionato della serie A.